Sono veramente felice di essere stato presente a questa vittoria, una vittoria cercata, voluta con tutte le forze. Non era facile, però le nostre ragazze hanno dimostrato carattere, hanno dimostrato una grande volontà e capacità di recupero nei momenti difficili. Io devo a questo punto complimentarmi con il nostro allenatore, perché sta dando quei risultati che noi, fin dall'inizio del campionato, avevamo chiesto. Perché la Serie C è una squadra di ragazze giovani, Under 18, che devono competere con avversarie più preparate, più smaliziate. E questa conferma è una ragione in più per continuare a percorrere quella strada di crescita che è poi il nostro programma. Per cui io ringrazio ancora il nostro amico Taramelli e tutto lo staff che segue non solo questa squadra, ma anche tutte le altre giovanili che stanno dando degli ottimi risultati. Sì, stiamo facendo un buon lavoro e il risultato, il sistema di lavoro, il modo come giochiamo dimostra la crescita tecnica delle ragazze. Che dire, all'andata abbiamo fatto 12 punti in 12 partite e al ritorno abbiamo fatto la metà dei punti, quindi 6 in due partite. Il chiaro dice lunga. Sì, adesso non so se le squadre che abbiamo incontrato sono involutive loro o se effettivamente noi siamo cresciute. Andando avanti nel campionato, già la prossima partita contro Davis, avremo una verifica importante. E niente, domani giocheremo con la 18 e la 16 e poi lunedì abbiamo il ritorno di Coppa Lombardia contro la Gardonese. Ci basterebbe un set per passare, ma non vogliamo fare i calcoli, andiamo su per giocare e fare una prestazione perché ritengo che le ragazze meritano di sognare anche il passaggio, sognare e ottenere il passaggio ai quarti di finale.